buonasera a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video del gobo toscano oggi abbiamo da parlare sicuramente di un paio di cosine e anche della conferenza stampa di tiago motta che abbiamo seguito in diretta sul canale del gobo toscano e ringrazio tutti quelli che sono stati lì presenti a messaggiare a interagire tutti i nuovi iscritti quindi grazie veramente a tutti per la massima partecipazione perché siete stati veramente tantissimi detto questo dobbiamo parlare anche di calcio mercato perché è stato ufficializzato cabal ma non c'è solo questo non c'è solo questo allora prima di entrare in merito a questo contenuto nuovo mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto lasciate un mi piace condividete il video commentatelo dicendomi la vostra e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti in più qui sotto in descrizione c'è un link di un nuovo canale youtube nostro sempre che si chiama calcio news 24 c'è un link cliccatelo e iscrivetevi al canale appena arriveremo a 500 iscritti cominceranno live anche su quel canale quindi mi raccomando non vi fate pregare non vi fate attendere e arrivate subito primi iscrivendovi a questo nuovo canale che parlerà di tutto il calcio della serie a e della champions league a 360 gradi e quindi non solo juventus allora andiamo a dire un paio di cose sulla conferenza stampa e poi entriamo in merito al calcio mercato cabal abbiamo detto ufficializzato superato le visite medie ha firmato e quindi siamo a posto beffata l'inter quindi ovviamente ovviamente beffato beppe marotta il tanto decantato beppe marotta che però senza quattrini fa poco e nulla è perché lo sappiamo l'inter in che situazione versa ma questo è un altro paio di maniche allora tiago motta oggi ha fatto capire che ci sono dei giocatori diciamo su cui lui punterà sicuramente di più giocatori che sia per un livello tecnico sia per un livello di personalità e caratteriale hanno una preferenza nonostante abbia detto che la juventus deve avere 23 24 titolari come abbiamo sempre ripetuto nel corso delle nostre live nel corso dei nostri contenuti ma soffermiamoci un attimo sulle parole che ha avuto per federico chiesa per ildis per danilo e per vlaovic allora su danilo dice non vedo l'ora più volte di averlo è un gran giocatore questo e questa quindi solo parole al miele per quanto riguarda ildis idem probabilmente se ildis lavorerà bene sarà un grandissimo giocatore eccetera eccetera blaovic l'ha ridimensionato nel senso che ottimo giocatore ma dovrà mettersi nei panni di questa nuova juve quindi già gli da un sarà un gran giocatore se federico chiesa è stato quello meno chiacchierato cioè nel senso ha detto sì sì di chiesa penso come degli altri giocatori quindi l'ha messo esattamente sullo stesso livello di tutti gli altri perché perché vuol far capire che non ci sono leader non ci sono prime donne in questa juventus e quindi chiesa diciamo anche da questa conferenza è messo un po in disparte però per chi ha ascoltato bene la conferenza questo vale anche per dusan blaovic io vi continuo a ribadire che dusan blaovic può partire per un'offerta intorno ai 60 milioni nonostante i ben informati del settore sponda juventus a livello giornalisti o non giornalisti ma a livello più di intrattenimento raccontano di un blaovic incedibile al 100 per cento cioè che blaovic almeno non arrivino 100 milioni non va via e si parla di un rinnovo probabilmente verso settembre ottobre io non credo la juventus voglia arrivare a tale data anche se ci può arrivare ma se ci arriva è perché ha già un accordo col giocatore con l'entourage semplicemente da formalizzare ma da quello che che ci risulta fare i ramadani si fare i ramadani scusate il procuratore di blaovic e blaovic fa i ramadani di chiesa non hanno nessuna intenzione di spalmarsi l'ingaggio quindi o ci pagano quello che ci spetta oppure si può benissimo cambiare aria il problema è un altro è che per cambiare aria ci vuole un'offerta e ad oggi nessuna squadra ha messo sul piatto 60 milioni di euro o più ci sono stati dei sondaggi del paris angermen che adesso è fiondata su osi man ci sono stati sondaggi in giro per la premier league ma mai concreti mai offerte ufficializzate ecco che allora si può creare come vi ho sempre detto una situazione un po scomoda per la juventus ma lasciamo da parte un attimino blaovic e focalizziamoci su federico chiesa federico chiesa pareva tempo fa vicino a una roma alla roma con il rifiuto del giocatore per la destinazione non ha mai ufficiale formalizzato l'offerta e l'ha fatto invece soltanto per sulle adesso la roma crede in sulle vuole provare a prendere in tutti i modi sulle che ci riesca o meno chiesa non è più un obiettivo primario la roma è sullo sfondo per chiesa si dà la priorità a due squadre di serie a per chiesa in questo momento e si chiamano milan e napoli ovviamente se dovesse arrivare un'offerta dalla premier league da qualche top club europeo chiesa sarebbe più propenso andare la juventus addirittura a venderlo ovviamente dirà anche perché con l'ingaggio che ha sicuramente potrebbero garantirglielo solo club esteri oltre alla juventus ragazzi le parole di tiago moto oggi in conferenza stampa a mio avviso sono state belle dirette senza troppe chiacchiere senza troppi giri di parole diciamo ci ha gasato moltissimo nonostante qualcuno sia stato lì in live a dire chi era moscio ma io mi posso immaginare passare da una piazza come bologna una piazza come la juventus che direi che non è proprio uno step comune a tutti no ecco quindi mettiamoci anche un po d'emozione mettiamoci la giovanità fondamentalmente tiago moto ha quattro anni più del sottoscritto quindi non è che parliamo di un giocatore e di un allenatore con così tanta esperienza alle spalle ma lo vedo pronto per una grande avventura con la juventus e con una maglia così importante detto questo giuntoli si fa scappare anche come tiago motta si fanno scappare che fondamentalmente ancora centrocampo dovrà arrivare qualcuno ora che si chiama i copmaners o pinco pallo non mi interessa ma qualcun altro arriverà e giuntoli ha precisamente specificato che arriverà un altro acquisto per ogni reparto quindi ci vorrà un altro difensore che sia esterno centrale un centrocampista e un attaccante anch'esso esterno o centrale quindi cominciamo a immaginarci no chi possono essere i prossimi acquisti io vi dico che a mio parere si può parlare per la difesa di todiboh in pole position e poi calafiori sempre sullo sfondo per non dimenticare come stanno andando le cose con l'arsenal a centrocampo un copminers o non lo so a questo punto non lo so chi è al posto suo e in attacco una degli emi o un sancio credo che possano essere una soluzione gradita sia tiago motta che aggiuntoli a tutti i nuovi tifosi quindi vedete quando ci sono queste conferenze stampe vanno anche sapute conferenze stampe conferenze stampa scusate vanno sapute anche interpretare e dal linguaggio del corpo di tiago motta dal linguaggio del corpo di giuntoli dalle parole sono fatti uscire da quel e di tiago motta quando parla del centrocampista e poi si ferma quindi fai i nomi e poi e bisogna cercare di capire certe cose ovviamente l'emozione delle volte gioca dei brutti scherzi ma per noi li gioca ottimi non sono brutti scherzi sono bellissimi scherzi perché ci fanno capire che la juventus ha delle idee non chiare di più e ci saranno altri colpi di mercato ovviamente ci dovranno essere anche le uscite vi ripeto secondo me vlaovic se non arriva a una conclusione del prolungamento del contratto quest'anno in questa estate o al massimo in inverno ci sarà una probabilissima cessione non credo che tiago motta gli riserverà degli sconti come non riserverà nessuno quindi stiamo ben attenti a quello che può succedere in queste prossime ore in questi prossimi giorni perché è fondamentale cercare di capire anche tra le righe di saper leggere tra le righe di certe determinate dichiarazioni detto questo ragazzi vi ringrazio ancora per la vostra attenzione vi ricordo come sempre di lasciare un'iscrizione un like una condivisione un commento e attivate la campanella delle notifiche del canale e in più farlo a tutte queste cose anche per il canale sotto nel link in descrizione calcio news 24 andate lì iscrizione a manetta e tutto quello che c'è da fare mi raccomando fino alla fine forza juve fino alla fine gobbo toscano noi ci vediamo domani con un prossimo contenuto e stanno arrivando delle novità che neanche lontanamente vi sareste mai immaginati da questo soggetto vi con questo codino diciamo come dico sempre a mia moglie un saluto dal samurai albino ciao ragazzi fino alla fine